Amici 2023-2024, Giuseppe Gioffre diventa il nuovo insegnante di ballo. Cominciano i preparativi per Amici 23, che dovrebbe aprire i battenti a settembre, come è accaduto negli ultimi anni. Per questo motivo, questa sarà un'estate dedicata ai casting per la scelta dei nuovi concorrenti, ma anche alle decisioni circa le cattedre di ballo e di canto. Innanzitutto, secondo quanto sta già trapelando, sembra evidente che Raimundo Todaro sia destinato ad abbandonare la trasmissione. L'insegnante è stato al centro di diverse polemiche e alcune delle quali, sebbene non siano andate in onda, hanno visto protagonista anche la stessa Maria De Filippi. A causa di queste tensioni, il suo addio al programma sembra sempre più probabile, anche perché, a quanto pare, Todaro sta valutando di tornare a Ballando con le stelle. Se così fosse, ci sarebbe bisogno di un nuovo insegnante di ballo, ma sembra proprio che la De Filippi abbia già pensato a tutto. Infatti, stanno circolando indiscrezioni, secondo cui potrebbe essere Giuseppe Gioffre, che quest'anno ha affiancato Cristiano Malgioglio e Michele Bravi nella giuria del serale, a diventare il nuovo professore di ballo. Il ballerino è stato apprezzato dal pubblico per la sua gentilezza e la simpatia, perciò potrebbe essere arrivato il momento di dargli la cattedra di ballo. Al momento è tutto in divenire, ma le cose sembrano andare proprio in questa direzione. Amici 2023-2024, anche Arisa lascia il talent show. Per quanto riguarda le altre novità che potrebbero esserci nella nuova stagione, sembra che anche Arisa possa abbandonare il suo ruolo di insegnante di canto. In questo caso, però, non ci sono problemi né polemiche dietro la scelta. Semplicemente, secondo quanto sta trapelando, Arisa avrebbe intenzione di occuparsi esclusivamente della sua carriera musicale, perciò non potrebbe concentrarsi anche sul talent show. Come ha detto lei stessa anche durante il programma, uno dei suoi grandi sogni sarebbe quello di tornare al Festival di Sanremo, con un bel brano, dato che in precedenza è stata esclusa dalla manifestazione Canora. Perciò Arisa potrebbe doversi concentrare solo su questo obiettivo. Al momento però non ci sono ipotesi su chi possa sostituirla come insegnante di canto, dato che il ritorno di Anna Pettinelli sembra essere, per il momento, escluso. Nel corso delle prossime settimane, sicuramente il nuovo cast di professori andrà a delinearsi in modo più chiaro, e quindi ci saranno notizie anche su eventuali sostituzioni. Voi che cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Giuseppe Gioffre come nuovo professore di amici, e cosa vi aspettate dalla nuova edizione? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Grazie per la visione!